Chi ha i coltac? Fragola meglio che ho mai mangiato Nooo Grazie, brode Rispondimi su Instagram Adesso andiamo a guardare i featuring Je les crois madame Kidloss Marrakesh Spender Noits Narcos Il malador G.U.E E grain grain Ciao 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 Vieni, vieni, grazie Tutto a posto Sei tesa? No, pure lei Non so perché in realtà sono molto ansiosa Come sta andando? Come è andata finora? Una capata Lei fa la pinta di aver capito Lei dice ok Buu ragazzi Come è stato? No, a parte che l'era grande Cioè mi ha messo a mio agio un secondo e mezzo Molto emotiva Hai visto? Sembrava che anche lei stava in ansia Questa cosa infatti mi ha Mi ha levato l'ansia Si è stata una grande Cioè mi avesse messo capito Allo stesso livello in quel momento Capito? Come se lei non era madame Io non ero ce la crua Stavamo semplicemente per cantare insieme Non c'era nessuno E infatti mi era praticamente passata l'ansia E poi mi è tornata ai venti Sei pronta? Vai Io invidioso che ho fatto questo pezzo Eh questo pezzo Decidiamo La traccia Eh lo so fra è proprio la canzone di Spotify Perfetto Se la cilla gela Io sto morendo Guarda che qua Dentro sto morendo Qua Oh 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 Ma guarda che affinità capito ma guarda che spaccato questa parte incredibile emozioni crisi ma poi quando sei partita melodica ho fatto proprio no vabbè bellissimo bellissimo ed ora come l'ago come ho detto la metodo la stessa cosa a me mo di più perché l'ho vista tecnicamente capita perfetta la stoffa e credito un po pulita ciao come stai bene benissimo apposto chiesto 200 ce l'ho leggeranno dei gardeni compito difficile tra tanti non so mi risposta avete fatto tribo la coppia ma non ti preoccupare ma non capisco sono artista quando qualcuno entra sulla specie che mi ricordavo esattamente così sto momento che tipo io cercavo di tranquillizzare lui perché sapevo che infatti lo dice no me dispiace che t'ho fatto tribo la coppia la sera prima io stavo lì che dovevo cambiare qualche barra qualcosa e quindi vabbè sono contatto che è uscito fuori come come una sketch sta cosa perché io era mia sapevo che gli stavo entrando su un pezzo che lui attica cioè che lui e tutta roma ci tiene d'alto giustamente però mi ha fatto cambia testo 10 è quello è quello la cosa che dici lo so stressato io qua settimana ci soffiamo bene io sono autocacciata dalla mia stanza e si sono bloccata nell'ascensore per arrivare da matador un piano bloccato nell'ascensore che scendeva oh è bello sta effetto è come i pittelli sotto chiave mamma mia oddio è venuta l'ansia a me dovevo uccidere in quel momento eccolo eccolo la codina eccolo quello di prima io per la mia famiglia per l'inferno che porto dentro lo sguardo perché sono un dio fino a quando scendo dal palazzo che barra questa poi sono ritornato è rotondo è rotondo sono quadrato è fatica è fatica è fatica di una tarantola le vuole ancora 200 colpi di spazio l'ho messo in cazzo al centro della piazza bellissima è assurda è spaccato assurdo l'astrofa devastante commozionato assurdo bello io ero convinto di uscire no? come fai dopo essermi esibito oh madonna messaggio a tutti regà non esco è stato bello bellissimo ti giuro assurdo mi sembra di stare di nuovo là è bravo sta avvenendo questa è la prima volta che ho metto l'ho visto io non l'ho visto non l'ho visto niente però bellissimo quando mi hai chiesto tante volte fai metti il cuore cioè fai te stesso io alla fine anche qua comunque ho lasciato spender sul palco da giusto e quindi tipo scegliendo mille modi che è uscito dal programma ho scelto quello del Dylan era questo il zanzo della barra bellissimo Noiz un pochino imballato eh Noiz c'era un momento che sembrava tipo i personaggi del GTA fra quelli la che non è i PC e dietro stava lì sembrava che era il personaggio che dovevi sbloccare che hanno certo poi inizi a cammina invece sta ciao piacere dirla come stai? non ci crede un po' 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 so tranquillizzato quando io ho provato la strofa e lui si era preso a bene quindi poi ho detto cazzo forse gli è piaciuto io la voglio tratten di una prova sbircia mi si inculavano è vero perché c'era proprio c'era la tendina stavo tipo così ogni tanto arrivava qualcuno io già sto con l'ansia per tendi premo lei a non c'è cascato sgabello cioè quella fatta proprio bene la trova non la fico si parla con le guardie come portiere dell'atalanta non la tocco salari non mi metto gli occhiali anche loro si danno un bacio guarda se il suo bambino sempre rilassato quel giorno mi ricordo un micro da chi gli ho scritto c'è sta di l'acqua ma finché capito era era più il prima che poi quando l'ho beccato che l'ho fatta in effetti poi si è sciolta la situazione ma prima di entrare tipo due secondi prima poi mi sono gasato detto no cazzo questa è l'occasione della vita mia che devo fare lo strofone ma come sentato i decibel la che storia sono mamma mia sono per svenire sei tutto in goblin come stavi fra male c'è appena l'ho visto appena ho visto un attacco di panico c'è presente un attacco di panico lo devi gestire davanti a marrakesh e non devi far sembrare che sta in panico quindi ero ero capito ero baggato il fatto che lui mi dà le pacche sulle spalle non mi scuote quasi come un fratello c'è una persona che ha confidenza fisica con te quello mi ha fatto calmare davvero un grande il sorrisone proprio guardato è tutto come quello di madame però lui meno che nessuna ansia lui c'è lui super sicuro di se marrakesh per un motivo rispondimi su instagram è una facile però tu ne abusi come tipo di facile punto chi sei che cammina lo so bene lo so bene lui cammina ma il bro mamma mia che entrata fatti due foto sotto alle vele fatti due follower fatti bene narcotrafficante sei narcotizzato non ho troppe puntate di narcos questo è troppo buffo e poi c'ha buffi con terzi a me se dicono buffo reagisco come il cio pesci forse robot e so si sente un po per esempio quale sa benissimo come quella scuola che dice non ho studiato niente di voi proprio io non so niente capito che si faceva mi ricordo che camminava io faccio amo però basta le ambizioni devastanti io sono troppo felice vi giuro non mi aspettavo questa è la volta la più bella secondo me è un film che non è mai successo realmente pure i giudici comunque fu super presi bene di tutte le performance ciao ragazzi continuate a seguire nuova scena per la finale e per altri contenuti backstage ci vediamo su tiktok let's go far starovo far starovo far starovo dobra